Quest'anno gli alunni della terza scuola secondaria di primo grado non faranno il cosiddetto esame, lo chiamiamo esame impropriamente perché come abbiamo visto dall'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, gli alunni devono soltanto preparare un elaborato che è stato assegnato loro dal Consiglio di classe e poi lo devono esporre. Tutto questo avverrà in sede di scrutinio finale, quindi c'è stata già la consegna alle scuole di questi elaborati su indicazione dei consigli di classe da parte di tutti gli alunni compreso i privatisti. Abbiamo già predisposto un calendario di discussione di questi elaborati che avverrà tramite delle piattaforme in videoconferenza. In seguito ci sarà la riunione del Consiglio di classe e dello scrutinio e si delibererà il voto finale che è frutto del triennio frequentato dall'alunno perché come sappiamo per il primo quadrimestre è andato tutto bene. Poi nella seconda parte dobbiamo basarci sulle osservazioni fatte dai docenti sulla didattica a distanza. Dopodiché ci sarà la valutazione dell'elaborato e infine ci sarà la discussione e quindi la valutazione di questa discussione dell'elaborato.